Il mestiere del giornalista non solo raccontato a degli studenti, ma attestato direttamente coinvolgendoli in un progetto didattico che ha attraversato scuole ed età diverse e una radio che ha prestato se stessa all'esperimento. A Gualdotadino, al Teatro Talia, serata di consegna degli attestati per il progetto Intervistiamoci e Casimiri Radio, chiusura di un percorso che ha portato durante l'anno scolastico gli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado, Storelli dell'Istituto Comprensivo di Gualdotadino e ragazzi dell'Istituto Superiore Casimiri a sperimentare la professione di giornalista in una web radio grazie al supporto di RT Radio Tadino con il patrocino dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e del Comune. Tante le persone intervistate dai ragazzi, dal mondo delle istituzioni, al volontariato, alle professioni per raccontare dal loro punto di vista la città. I saluti nel corso della serata delle dirigenti scolastiche dei due plessi, Angela Codignoni per le medie e Sabrina Antonelli per il liceo, quindi la parola al presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Minolo Russo, accompagnato in sala dalla vicepresidente Donatella Binaglia per raccontare un mondo, quello del giornalismo, da sempre affascinante ma che sta rapidamente cambiando. Lo stesso accesso alla professione vedrà nei prossimi mesi novità e modifiche con il progetto della nascita di un'accademia del giornalismo pensata per affrontare le sfide attuali. Nel panorama complesso di un settore da sempre ritenuto presidio di democrazia, ma oggi in profonda crisi per un mutare del modo di fare informazione, sempre più veloce, sempre meno meditato, con la facilità di incorrere nel sensazionalismo e nel click, con crisi aziendali che portano a dolorosi tagli anche per testate storiche, portandosi dietro i professionisti che vi lavorano, il progetto scolastico di Gualdo Tadino è stato una ventata di ara fresca e una buona novella, nella speranza che sappia infondere nelle nuove generazioni il senso profondo di cosa significhi essere un giornalista di professione. Certamente il piacere di svolgere uno dei mestieri più stimolanti al mondo, ma anche il sacrificio che comporta e la responsabilità morale, prima ancora che civile e penale, che ogni articolo, servizio video, podcast porta con sé.